In occasione del passaggio della terreno adriatica sabato 16 e poi della partenza della tappa Coglia al Metauro a Porto Recanati che si svolgerà domenica 17, terremo venerdì sera alle ore 21 a saltare alla chiesa del Gonfalone un evento diciamo così di presentazione di questa bella iniziativa, un evento dove ci sarà ovviamente l'amministrazione di Coglia al Metauro che farà un saluto perché è comunque l'amministrazione di Coglia al Metauro che ha come comune organizzato questo evento, ci sarà poi l'organizzatore vero e proprio Lighiero Miccioli della sportiva Omiccioli qui di Saltara che ha seguito di fatto l'evento e lo presenterà alle persone che vorranno assistere a questa iniziativa, quindi invito tutti venerdì 15 qui a saltare alla chiesa del Gonfalone per questa bella iniziativa durante la quale ci sarà anche la presentazione di un libro che ha fatto e sta facendo molto successo ma soprattutto discutere di ciclismo in questo territorio che è il Giro d'Italia sul divano così come scritto da Francesco Cavalieri nota personalità di questo territorio di Fano che ha scritto questo libro di fatto che riassume tutte le tappe del Giro d'Italia seguite appunto da un personaggio ipotetico che io poi deduco sia lui stesso dal divano di casa ma è veramente molto interessante quindi vi aspetto tutti quanti venerdì alle ore 21 alla chiesa del Gonfalone di Saltara per questa bella presentazione grazie a tutti